Numero 1, va! Unipro 1, va! Grazie a tutti. Ah, qua è dove c'era il passaggio in alto. Avete tolto il passaggio alto. Avete tolto il passaggio alto, lì c'era il passaggio in alto. Eh, sì, questo era il sentiero. Ah, eh? Me lo ricordavo. E' il passaggio. Basti, bravo. Basti, bravo. Basti, bravo. Basti, bravo. Basti, bravo. Non l'abbiamo mai fatta, volevo provarla. No, no, mi ha fatto bene. Infatti dico la cosa, guarda che qua è dove facevamo lo sasso in alto che sentevamo questa roba. Basti, bravo. 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 Basti, bravo.